Ti chiedi mai cosa ti aspetta domani? Quali saranno le sfide che accoglierai? I nuovi orizzonti che ti aspettano? I traguardi che ti meriterai? Le nuove esperienze e le amicizie che renderanno il tuo percorso unico? Se ci pensi bene, domani sarà sempre brutto delle strade che prendi oggi. Adesso è il momento di credere in quello che fai. Circondarti di persone con la tua stessa voglia di imparare. Fare parte di una comunità che ti accoglie e sprona ogni giorno a dare il massimo. Non puoi sapere cosa ti aspetta domani. Puoi solo scegliere di percorrere la strada più luminosa. Sempre. Collegio Einaudi. Apri le porte al tuo futuro.